Oggi le consegne hanno tempi lunghissimi in funzione dell'arrivo del materiale. Si parla addirittura per certi componenti un'attesa di 5, 6, 7 mesi se non addirittura oltre l'anno. È la crisi dei semiconduttori, cipe circuiti che fanno funzionare schede elettroniche come queste, progettate e prodotte alla Bertronic di Stezzano, provincia di Bergamo. Da qui escono schede per macchine industriali automatizzate che a loro volta, senza quei circuiti, rallentano la produzione. In questa crisi siamo gli ultimi della lista, ci spiega Grazia Fuselli, titolare dell'azienda di famiglia. I pochi chip che arrivano da Cina e Taiwan sono assorbiti al 50% tra mercato dell'auto e telefonia. Poi ci sono gli elettrodomestici, al settore dell'automazione resta meno dell'8%. Ad oggi abbiamo addirittura acquistato per i nostri clienti quasi tutto il materiale per la produttività del 2022. A fine anno sicuramente ci metteremo in campo per garantire la componentistica per il 2023. Stanno mancando tantissimi altri componenti elettronici, dove riusciamo a sostituire un componente elettronico con un altro. Lo facciamo, abbiamo all'interno il nostro ufficio progettazione. Questi sono i microprocessori, quanto sono aumentati i prezzi di queste componenti? Ad esempio noi ci troviamo con un microprocessore che prima aveva un costo di 6,50 euro circa. Ad oggi l'abbiamo reperito sul mercato a 60 euro. Oltre ad esserci dei veri e propri e propri falsi, quindi delle copie identiche dei componenti elettronici, spesso vengono riutilizzati quelli che sono gli scarti di produzione. Cina e Taiwan si dividono il 27% del mercato, gli Stati Uniti il 16%, l'Europa solo il 12% della produzione globale di microprocessori. Con l'arrivo della pandemia ci si aspettava un periodo anche prolungato di bassa domanda. Quando invece la domanda era imbalzata molto vigorosamente nel secondo semestre del 2020, l'industria non era pronta. Non è incoraggiante che tutta questa filiera produttiva sia così dipendente dalla stabilità della produzione in paesi come Taiwan o la Cina. Grandi gruppi dell'elettronica come Apple, Google e Amazon stanno valutando di produrre internamente microprocessori. La corsa per adeguare la produzione europea alla domanda è già partita, ma servono strutture ad alta tecnologia. Per realizzare un nuovo impianto ci vuole almeno un anno e mezzo. Oh, questo tanto...